I campi in terra rossa del circolo tennis di Roseto degli Abruzzi tornano ad ospitare per il secondo anno consecutivo il Tennis Tour I Love Abruzzo. Evento giunto la terza edizione e come prima tappa si svolgerà nel comune costiero dal 16 al 23 aprile, portando in città atleti di livello internazionale e tantissimi appassionati. Il secondo anno consecutivo qui a Roseto degli Abruzzi e terza edizione del Tennis Tour I Love Abruzzo, si partirà anche quest'anno da Roseto degli Abruzzi coinvolgendo tutte le province della regione. Il supporto della regione è stato determinante e questa serie di tornei itineranti che coinvolge tutto il territorio a partire dalla primavera fino all'autunno una formula vincente. L'anno scorso c'erano grandi atleti, quest'anno ci sono nomi importanti? Anche quest'anno nomi importanti, un po' su tutti questo giocatore svizzero che viene ritenuto Kylian Fersbau, che viene ritenuto l'erede di Roger Federer. Si è aggiunto un giocatore giapponese molto molto interessante appena vinto il Challenger di Barletta e quindi ci aspettiamo come sempre tanti giovani, ma anche ci sono un po' i nostri italiani, Gianluca Magher, Stefano Travaglia e tanti giocatori che faranno veramente di Challenger di Roseto un torneo molto importante. Un evento che per il sindaco Mario Nugnes rappresenta un'importante vetrina per tutto il territorio. Continuiamo sulla scia già avviata nel primo anno di governo, un ringraziamento ovviamente agli organizzatori, a Luca Del Federico, al circolo tennis e al maestro Bianchini, ma anche al mio assessorato allo sport, l'assessore del Piglio e tutta la squadra di governo. Roseto si è fatta trovare ancora una volta pronta ad ospitare questo come tanti altri eventi. Stavolta parliamo di tennis, parliamo di un circolo, l'eccellenza in Abruzzo, quello di Roseto, parliamo di uno sport che sta crescendo a livello nazionale con grandi interessi, parliamo di un torneo, quello di Roseto, che lancerà, guarda un po' quelle che sarà tra qualche settimana poi a seguire l'internazione di Roma. Insomma, Roseto-Roma è un bel connubio e in questo modo sport e turismo diventano una bellissima accoppiata per Roseto.